Di grave scontro istituzionale dopo le dichiarazioni del Premier sui magistrati parla il leader Udc Casini che lancia anche alcune proposte sulle norme per i processi. Sentiamo l'intervista di Nadia Zikoski. Lei propone alla maggioranza di soprassedere sulla salva processi e di lavorare insieme ad una salva Premier, è così? Sì, propongo un patto di serietà reciproco. La maggioranza rinuncia ad apporre in un decreto sulla sicurezza che non c'entra niente queste norme. Tra l'altro in questo modo aggira la firma del decreto che ha posto il Capo dello Stato e noi, noi dell'opposizione, abbiamo un dovere di evitare le derive ostruzionistiche, di metterci a ragionare se è possibile una norma che tuteli gli atti vertici dello Stato o reintrodurre un'immunità parlamentare come c'è e come è stata varata al Parlamento europeo col voto della destra e della sinistra. Si aspettava che si sarebbe tornati ad uno scontro istituzionale così forte? No, non me lo aspettavo e secondo me è molto negativo. È negativo per Berlusconi perché è negativo partire da sé e non dai problemi dei cittadini. Dopo pochi mesi da una vittoria enorme, da un grande credito che ha avuto dagli italiani ed è negativo per l'opposizione che rischia di essere risucchiato e portata a una deriva populista di piazza che certamente non serve al Paese. Lei ha già vissuto tutto questo da alleato di Berlusconi, adesso si sente meglio? No, il problema non è come mi sento io, è come si sentono gli italiani. Direi che il film rischia veramente di essere un film già visto, ma non è che l'Italia 15 anni dopo può ritornare sempre agli stessi film. Grazie.